Buongiorno a tutti. Dopo la pausa stiva riprendiamo con un video che riguarda l'inizio di un anno scolastico, l'inizio di una nuova sessione di esami, l'inizio di un nuovo anno di produttività. Quindi non anno solare ma tendenzialmente anno scolastico appunto. Il video di oggi riguarda come studiare anche quando non si ha voglia e penso che questo sia il momento giusto per farlo perché trovarsi all'ultimo a studiare anche se non si ha voglia lo si fa lo stesso. E adesso è il momento di studiare nonostante non si abbia voglia, non si abbiano scadenze a breve, è il momento giusto per imparare strategie nuove, modi nuovi per aiutare lo studio nonostante non sia obbligatorio. Il primo consiglio che do è di andare a fare una passeggiata. Capita sempre di avere quella giornata in cui si sa che si deve studiare, si sa che bisognerebbe studiare, ma non si ha nessuna voglia e nessuna intenzione, nessuna motivazione. Nella mia esperienza, ma ci sono anche studi che lo dimostrano, fare una passeggiata all'aperto di circa una ventina di minuti, di una mezz'oretta, magari al sole, può aumentare non solo la produttività ma anche diminuire i livelli di stanchezza. Infatti l'esposizione al sole aiuta allo sviluppo della vitamina D e quindi di diminuire il senso di fatica. Oltre a questo, appunto, lo spazio di una mezz'oretta per schiararsi le idee, non essere attaccati a uno schermo, ma quindi essere, se possibilmente nella natura, magari o anche fuori in città, non importa, dà la motivazione giusta per poter iniziare una sessione di studio più motivata e con più voglia, meno fatica, più motivazione. Il secondo consiglio che do è sicuramente organizzare il lavoro. Quindi, so che devo studiare queste materie, di queste materie devo studiare questi argomenti, quando farlo, come farlo, in base a questo decidere le priorità, quindi questa è una cosa più importante perché senza questo argomento non riesco a capire il resto che farà lezione, è una priorità, piuttosto che ho una consegna di questo compito, piuttosto che tesina, piuttosto che esercizio, che cosa, e quindi dare anche delle priorità. Sicuramente la tendenza di voler fare tutto, ma nelle giornate in cui proprio non ne abbiamo voglia, sapere quali sono le cose più importanti da fare per cui c'è dell'urgenza è una delle cose che può aiutare. E quindi, farsi un planning, a me piace molto fare i planning e quindi anche a lungo termine aiuta nel senso di produttività, per cui so che entro questa data, che sarà magari a gennaio, devo fare questi esami, devo studiare questi argomenti, per cui faccio in modo di scadenzarmi, tipo dedicare un tot a settimana, tutte le settimane per questo argomento, due ore a settimana per questo progetto, eccetera, eccetera. Quindi, programmare sia a lungo termine che a breve termine, quindi magari questa settimana, solo questa giornata, aiuta a mettere, diciamo, a far partire la voglia un pochino di studiare. Il terzo consiglio che vi do è sicuramente quello di concentrarsi un compito alla volta. Si collega molto a quello di prima, quindi abbiamo visto quali sono le nostre priorità, si sceglie un compito, un argomento, una cosa da fare e si pensa a fare quello. In un altro video avevo parlato della Pomodoro Technique, quindi della scadenza del tempo di 25 minuti di lavoro e 5 minuti di pausa, e in quei 25 minuti si fa soltanto quel compito lì, può aiutare molto, soprattutto per chi fa fatica a partire, ma indipendentemente di come organizziate il vostro tempo, pensare a studiare solo una cosa, fare solo un argomento o fare solo un esercizio, un tipo di esercizio, concentrandosi solo su quello. Semplifica perché è facile dire, non appena questo diventa difficile, non appena non capisco saltare un altro argomento, oppure fare un'altra cosa, non aiuta alla concentrazione e non aiuta ad essere produttivi e a capire bene. Quindi concentrarsi per un tot di tempo, che possono essere 25 minuti, per me funziona molto bene, ma come volete organizzarvi voi, su un solo argomento, quindi una sola cosa da fare, ma fatta bene, e questo aiuta molto la testa anche a non disperdersi, non perdere focus, se perdi concentrazione è più difficile, sei meno motivato, se invece riesci a concentrarti su un'unica cosa, fai quella finché non l'hai completata, e aiuta molto a partire, quando si fa fatica, nei giorni in cui non si ha voglia. Un'altra cosa importantissima è sistemare lo spazio di lavoro. avere una scrivania, una camera, uno studio in disordine rende la testa disordinata. Avere un luogo di lavoro libero da distrazioni, libero da confusione, aiuta a concentrarsi, aiuta ad avere anche la mente più libera. Per cui, sicuramente, una volta che si è organizzato, si è fatto la passeggiata, si è organizzato il programma, si deve organizzare anche lo spazio. Quindi, liberare, cercare di togliere più possibile cose, avere solo il necessario e averlo lì, quindi non dover ogni volta andare a prendere l'evidenziatore, la penna e il block notice. Quindi, mettersi lì tutto quello di cui c'è bisogno e togliere tutto quello di cui non c'è bisogno. Quindi, tutte le distrazioni, come possono essere il telefono, come possono essere il computer, mettere tutto in modalità aereo, chiudere la porta, per esempio, per evitare di sentire persone che passano. Se invece si è in biblioteca, il proprio spazio, togliere i libri inutili, togliere quello che non serve, isolarsi, rendere lo spazio efficiente per lo studio. Quindi, ordinato, perché ti porta ad avere una mente ordinata, pulito, libero dalle distrazioni, silenzioso con la musica, questo poi dipende da persona a persona. Alcune persone preferiscono studiare con la musica, su Spotify c'è pieno di compilation che riguardano lo studio. C'è chi preferisce il silenzio, ognuno ha le proprie preferenze, ma rendere l'ambiente di lavoro o di studio il più predisponente possibile allo studio, ovviamente. e quindi non avere nessuna scusa per non poter essere concentrati, nonostante la giornata non sia una giornata che aiuta, perché abbiamo detto che queste tecniche si usano quando non si ha voglia. Un'altra cosa che aiuta molto è iniziare dalle cose semplici. Allora, abbiamo detto di iniziare di una cosa alla volta. Se proprio è una giornata in cui non si riesce, non si ha voglia, non si è predisposti allo studio, consiglio sempre di partire da cose semplici. Per esempio, devo studiare un argomento complicatissimo. Per me è stato devo studiare un'atomia umana, che è complicato. Allora, magari parto dall'argomento che mi piace di più, o da quello che trovo più semplice, oppure semplicemente leggo e basta, mi sfoglio le immagini e cerco di memorizzare, piuttosto che devo leggere due o tre libri, li leggo semplicemente, oppure devo produrre un, un tema, un qualcosa. Parto scrivendo quello che viene. Questo aiuta a partire. È considerato come un riscaldamento, come se stessimo facendo attività fisica e questo fosse un riscaldamento. Il fatto di produrre una cosa imperfetta, che può essere uno studio magari non efficace al massimo, efficiente al massimo, un tema che può non essere il migliore o il prodotto finito, è meglio di non fare niente. Cioè, piuttosto che andare a giocare alla PlayStation, piuttosto che stare su Instagram due ore, fare anche un prodotto che non è il migliore, e non è imperfetto e va sistemato e richiederà anche del tempo dopo per sistemarlo, è sempre meglio. Questo non vuol dire che però, magari entrando, facendo questo riscaldamento, poi non si entri nel flusso di creatività e quindi si riesca poi a dare una performance che può essere ancora migliore rispetto a quella che si poteva avere in una giornata in cui si ha voglia di studiare. In ogni caso, il difficile è partire, non continuare. Per cui, l'importante è partire con cose semplici, magari che non sono così utili, ma hanno una minima utilità e ci permettono però di iniziare a entrare nel fare. Perché poi una volta che si è partiti si è un po' come il diesel, no? Partire è difficile e una volta che si è partiti si va avanti meglio. Per cui iniziare con cose semplici quando si sceglie l'unico task da fare, l'unico compito da fare in quel periodo di tempo perché ci si è organizzati, scegliere magari una cosa più semplice che magari appunto richiederà del tempo dopo per essere sistemata o per essere migliorata come storia, leggere basta non è sufficiente per alcuni, però iniziare a leggere, iniziare a partire, iniziare a scrivere, iniziare a fare qualcosa e iniziare dalle cose semplici può aiutare quando proprio non abbiamo voglia. L'ultimo consiglio che do è accettarsi, accettare che a volte non abbiamo voglia e possiamo essere pigri e non c'è niente di male nell'esserlo, però a volte dobbiamo farlo contro voglia. L'avevo già citato, c'è un libro molto bello che mi è piaciuto che si chiama La regola dei 5 secondi di Matt Robbins in cui lei sostiene che ci sono delle cose per cui non avrai mai voglia e dover cercare la voglia, doverle fare solo quando hai voglia a volte non è sufficiente. Per cui ammettere che sì, magari a me non piaccia studiare, non ho voglia di studiare, però lo devo fare e quindi lo faccio comunque. E lei da come strategia questo contro la rovescia nel 5, 4, 3, 2, 1 e si parte senza pensarci, senza pensare troppo perché lo devo fare, che cosa. Farle basta, senza pensare e farlo subito perché poi è facile trovare scuse, però sono cose che vanno fatte a volte e ammettere che non si ha voglia, non c'è niente di male, va benissimo, semplicemente farle. ogni tanto ci sta una pausa, il limite tra ogni tanto è sempre abbastanza sottile, per cui alle volte ci vuole una spenta in più e farle nonostante non si abbia voglia. Il video di oggi è terminato, spero di esservi stata utile, spero che vi sia interessato l'argomento, che vi sia piaciuto. è un argomento molto difficile da affrontare, per alcune persone è molto facile studiare, piace studiare, per altre è più difficile, soprattutto quando si deve studiare qualcosa che non piace. Io sono stata fortunata, ho fatto degli studi che di un argomento che mi interessava molto e sono stata molto facilitata, però sempre ci sono anche all'università degli esami che non è che mi piacessero più di tanto, però vanno fatti e rinforzare il farlo nonostante non abbiamo voglia aiuta poi a diventare sempre più bravi a studiare. vi ringrazio per aver seguito questo video vi vi ringrazio per seguirmi se vi è piaciuto il video mettete il like e se avete voglia di vedere altri video riguardo al miglioramento personale la crescita personale eccetera eccetera seguite il mio canale e buona giornata e buono studio video